Queste persone hanno certi nazionali Ma uccidevano questi due ragazzi Ma no Guarda lì Non li uccidevano Vi dico che hanno certi dalla padre La ragazza si è tutta spaventata E' incinta E' incinta pure Guarda quella è incinta Guarda la sua Però se no gridavano li uccidevano E' incinta E' incinta E' incinta